Speriamo che Lewis stia ancora dormendo, se ci vede così! Ascoltate! Cosa? Io non sento niente! Appunto, quando ce ne siamo andate invece si sentiva Lewis che russava come un orso! Ragazze, ero preoccupato! Oh! Vuoi restare lì con la bocca aperta per sempre o ce la fai a venire a darci una mano? Ok, e così siete cadute là sotto, ma dopo cos'è successo? Non lo sappiamo Lewis, siamo finite in una grotta e poi... Che cos'è? Oh no, la guardia postiera! E' mio padre! Visto che non siamo rientrati deve aver dato l'allarme! Se ci vede così siamo spazzate! Sì, ma chi ha la coda al posto delle gambe non può correre a nascondersi tanto in fretta! Oh! Che... che... che succede? Oh! Che adesso! Guardate! Che grande! Sono tornate! Oh! Per fortuna sono tornate anche le mie! E le mie! Mi arrendo! Sono senza parole! Ascoltate, non dobbiamo parlarne con nessuno! Specialmente con i nostri genitori, chiaro? Beh, proviamo a guardare il lato positivo! Sono venuti a salvarci! Hai ragione, anche se la gioia non durerà molto!